Mettere a disposizione delle aziende figure adeguatamente formate e competenti nel settore della logistica e della gestione dei prodotti in campo agroalimentare. È stato pensato con questo obiettivo il progetto Login, corso di formazione per tecnico della logistica integrata per il settore agroalimentare presentato dal Cesar e finalizzato a formare 10 tecnici qualificati. Il progetto, finanziato da Arpal Umbria, Fondo Sociale Europeo Regione Umbria 2014-2020, è stato illustrato da Angelo Frascarelli e Francesco Martella, rispettivamente direttore e responsabile area sviluppo del Cesar. Il corso prevede una formazione teorico-pratica con 330 ore d'avola e 4 mesi di stage, con un rimborso di circa 600 euro mensili, in una delle 12 aziende partner che hanno aderito al progetto. È rivolto a disoccupati e inoccupati senza limiti di età, iscritte ai centri per l'impiego dell'Umbria e in possesso di diploma di istruzione secondaria e superiore. Le lezioni prenderanno il via a settembre e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata a mercoledì 30 giugno, termine dopo il quale si procederà alla selezione dei corsisti. Informazioni motoristiche si possono reperire sul sito internet del Cesar. Il corso già prevedeva in fase di progettazione la collaborazione con le aziende, che è un po' la caratteristica della formazione del Fondo Sociale Europeo e di questo bando in particolare. Infatti noi abbiamo 12 aziende partner che hanno dato l'adesione ancora prima che tutto ciò accadesse, proprio per ospitare i nostri ragazzi a fare la fase di stage. Perché il percorso si compone di 330 ore d'aula e 4 mesi di stage e per la parte di stage c'è un rimborso previsto sempre dal bando di circa 600 euro mensili, che serve a coprire un po' le spese che chi si forma sostiene per stare nelle imprese. Quindi avevamo già coinvolto in fase progettuale le imprese e chiaramente tutto quello che avviene è un aiuto in più e una prospettiva in più.